E questa mattina, lo avete già visto inquadrato, sono davvero contento di dare il bentornato nei nostri studi. Già ieri in realtà sei stato qui, Don Pino, e questa mattina per noi, per me in particolare, è davvero un piacere ospitarti. Benvenuto, Don Giuseppe Ruppi che sta predicando in queste serate di quaresima la celebrazione eucaristica vespertina. Benvenuto. Grazie, grazie per l'accoglienza e un bel buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, Don Pino, abbiamo detto, questa settimana di quaresima, l'ultima prima che ci prepara appunto alla Settimana Santa, è affidata alla tua predicazione, stiamo vedendo anche qualche immagine relativa alle celebrazioni dei giorni scorsi. E allora, come ti stai trovando qui a San Giovanni Rotondo? Uso una espressione bella, molto bene. Molto bene, perché innanzitutto ti senti accolto e poi ti senti veramente provocato dall'affluenza della gente, dalla chiamata anche che il santuario di per sé emana, e poi nell'attenzione veramente concreta alla parola di Dio che in questi giorni, l'ultima settimana di quaresima ci sta dando da vivere, da ascoltare e da vivere. E per questo davvero dico una forte espressione di accoglienza interiore, di una intimità spirituale molto profonda. E poi mi sono trovato proprio nella settimana iniziale della traslazione di San Pio, e quindi questo anche permette di vedere l'afflusso della gente verso Padre Pio. C'è qualcosa in particolare che ti lega al Santo di Pietrelcina, Don Giuseppe? Guarda, io prima di essere salesiano a Foggia nel 2000, conoscevo Padre Pio, ne ho sentito parlare, l'ho studiato, l'ho anche spiritualmente, mi ha accompagnato per esempio con mio zio, mio zio diacono permanente, il quale grazie a Padre Pio ha vissuto una conversione e poi una dedicazione anche nella ministerialità, come diacono permanente. E lui mi parlava spesso di questa figura. Ma l'essere venuto come parroco al Sacro Cuore di Foggia mi ha dato la possibilità di frequentare il punto San Giovanni Rotondo e quindi di conoscere più da vicino. Ecco, queste due esperienze mi hanno portato particolarmente a vivere questa esperienza bella di intimità con il Santo di Pietrelcina, con il Santo che è conosciuto universalmente. Don Pino, tu hai citato la tua missione a Foggia, adesso sei a Bari, al Redentore, un'opera che abbiamo avuto anche modo di raccontare davvero in alcune delle sue sfaccettature, in una serie di programmi che qui su Padre Pio TV abbiamo fatto insieme, soprattutto nel bicentenario della nascita di Don Bosco. Sono passati ormai quasi dieci anni. Dunque, tu sei un figlio di Don Bosco. Allora ti chiederei di raccontarci un po' il tuo legame con quello che è il Santo Sociale per eccellenza, perché poi parleremo anche di come porti avanti quest'opera lì a Bari, al Redentore, in un quartiere difficile, complicato, ma anche bello, nelle sue sfaccettature, appunto, che è in libertà. Mi stai chiedendo in pratica un po' il riassunto della mia storia vocazionale. E sì, parte da Taranto, la città della mia nascita. A Taranto abitavo nel quartiere Trecarrare, un quartiere molto sociale, diciamo, per alcuni versi, però aveva una caratteristica. Il perimetro del quartiere era gente medio-borghese. L'interno del quartiere è gente molto povera, gente molto in disagio economico. E lì, in questo quadrato, particolarmente erano presenti tre opere salesiane. Verso l'esterno, l'istituto salesiano, quindi scuola media, liceo classico, liceo scientifico. Poi, invece, in via Umbria, la parrocchia San Giovanni Bosco con l'oratorio. E poi, invece, proprio nel centro del quartiere Trecarrare, in via Dante, c'era la parrocchia del Sacro Cuore, dove io sono nato. Praticamente ho vissuto la mia esperienza. Lì c'era un parroco salesiano davvero, oserei dire, ecco, un santo, un santo sociale. Perché amava, era molto innamorato della liturgia, viveva proprio bene la celebrazione, ma non si fermava soltanto al momento della celebrazione. Si fermava al momento che Don Bosco avrebbe chiamato quello del onesto cittadino, del buon cristiano. Cioè, al vivere sociale, al vivere in mezzo alla gente. Ecco, da lui ho ricevuto degli input molto belli. Tant'è vero che quando si definiva un po' il mio cammino vocazionale tra sacerdote in diocesi o sacerdote religioso e quindi salesiano, io non ho avuto timore di scegliere subito per i salesiani di Don Bosco. Ed è stato bello perché c'era una battuta anche della mia mamma. Io avevo frequentato l'asilo dalle figlie di Maria Osiliatrice, la scuola elementare dalle figlie di Maria Osiliatrice, poi la media e il ginnasio all'istituto salesiano di Viale Virgilio. Frequentavo l'oratorio a San Giovanni Bosco. Ero parrocchiano del Sacro Cuore e allora mia madre diceva come non poteva farsi salesiano. Assolutamente. E quindi era questa la battuta che particolarmente girava sul mio cammino vocazionale che mi ha sempre reso molto libero, molto sereno, molto tranquillo. Amo essere tra i figli di Don Bosco e come figlio di Don Bosco mi piace però non essere chiuso in me stesso ma essere aperto all'intera Chiesa, all'intera Chiesa, ovunque essa mi chiama con questo mandato. E mi ricollego a quello che ti ha chiesto Leonardo, Don Pino. Ha citato il quartiere Libertà a Bari. Come portate avanti l'opera di Don Bosco in questa realtà? L'opera dei salesiani a Bari è dal 1905 che è canonicamente eretta. Però già alla conclusione dell'anno del secolo del 1800 già il primo successore di Don Bosco, Don Rua, venne a Bari per stabilire dove i salesiani dovevano costruire questa casa. E' nata con l'orfanatrofio, è nata con i disagi dei minori praticamente. Ora sempre di più nel tempo si è rinnovata nelle strutture sociali dove poter portare appunto questo aiuto di evangelizzazione e di socializzazione. In modo particolare il quartiere Libertà soffre in questo momento di inclusioni esterne come le mafie che possono provenire anche dai paesi migratori. Quindi le mafie che vengono dall'Africa, le mafie che vengono dall'Est, le mafie che particolarmente coabitano insieme nel quartiere Libertà. E quindi questo crea una situazione di disagio molto forte nell'intero quartiere che ha bisogno però per noi salesiani soprattutto di una risorsa educativa molto forte. Noi dobbiamo prevenire appunto e quindi dobbiamo rispondere alle esigenze educative, sociali, alla povertà educativa che è presente in quel quartiere ma che si estende anche oltre il quartiere. Bisogna dire che da un punto di vista sociale la città di Bari ha fatto veramente un bel cammino. Abbiamo avuto delle istituzioni presenti su Bari che hanno dato un cammino di frequentazione anche della povertà educativa e hanno cercato veramente di trovare delle soluzioni. Sostenendo per esempio la cultura, noi facciamo parte di un itinerario che il Comune di Bari ha messo in atto che sono le biblioteche di quartiere e con la nostra biblioteca abbiamo offerto la possibilità di avere la biblioteca di quartiere Don Bosco che agisce proprio su libertà e quindi con tante attività culturali legate a questo e in questo incentiviamo anche quello che è il cammino. Ma soprattutto la nostra opera educativa è attraverso l'oratorio, il centro giovanile, che cerca di aggregare un po' i giovani cercando non solo di toglierli dalla strada come poteva essere la significatività di una volta dell'oratorio ma piuttosto quello di dare loro uno spazio di vita, capire cos'è la vita e come poterla affrontare. Anche questa è evangelizzazione. Stiamo vedendo nel frattempo, Don Pino, alcune immagini del programma Don Bosco si racconta oggi con un giovanissimo Don Francesco. E' stata veramente un'esperienza straordinaria perché abbiamo davvero raccontato non solo l'opera dei Salesiani ma il libertà a 360 gradi. Uno dei ricordi più belli che ho di quell'esperienza è il fatto che quella parrocchia, appunto il Redentore, è al centro del quartiere, è il centro un po' della vita. E questo è ancora una volta il senso di quello che tu ci stavi trasmettendo e che vuole anche essere ancora una volta il senso di quello che Don Bosco voleva. Adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità, facciamo qualche istante di pausa. Poi Don Pino resta ancora con noi perché parleremo della Settimana Santa e dei riti molto particolari ovviamente che si svolgono in questa settimana in preparazione alla Pasqua. Restate con noi, pochi istanti di pausa. Torniamo insieme, torniamo in diretta con Don Giuseppe Ruppi che in questi giorni sta celebrando la messa vespertina nel santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Stiamo aggiungendo, Don Pino, potremmo dire le battute finali di questo tempo di Quaresima, pronti a immergerci nella Settimana Santa. Come possiamo vivere al meglio questo periodo, questi sette giorni così intensi? Sì, innanzitutto vorrei partire da questa ultima settimana di Quaresima perché questa ultima settimana di Quaresima ha anche una seconda denominazione che è quella della prima settimana di Passione perché ha in sé tutta un'attenzione nella liturgia della parola che aiuta a comprendere la grande settimana, la Settimana Santa. E il principio fondamentale della parola di Dio che noi ascoltiamo, meditiamo in questa settimana ultima di Quaresima ci aiuta a comprendere quella che potremmo dire è la password per entrare nel mistero pasquale, per entrare nel mistero pasquale di Cristo che non è soltanto degli elementi spezzettati, passione, morte, risurrezione ma sono elementi uniti da un'unica grande realtà che è quella del sacramento vero, autentico, che è Gesù Cristo nostro Signore. Allora in questa prima settimana di Passione, ultima settimana di Quaresima l'espressione fondamentale è proprio questo circolo quasi ermeneutico che vuol dire ascolto della parola di Dio. L'ascolto della parola di Dio suscita la conversione del cuore la conversione del cuore aumenta la nostra fede. L'aumento della nostra fede richiederà ancora maggiore ascolto della parola di Dio e questo maggiore ascolto della parola di Dio allora susciterà una passione una passione interiore che ci spingerà alla conversione del cuore. La conversione del cuore aumenterà sempre di più la nostra fede. A questa volta la conversione del cuore che aumenta la nostra fede eserciterà su di noi un elemento fondamentale che è quello di essere proprio incollati alla parola di Dio cercare di scrutare profondamente la parola di Dio che cosa provoca attraverso questa passione in noi e questa passione si manifesta in un tentativo di riconciliazione innanzitutto con noi stessi e questa riconciliazione con noi stessi è data da questo grande amore passione, da questo grande amore che Dio ha rivelato in Cristo Gesù nell'azione dello Spirito Santo in noi e tutto questo aumenterà la nostra fede. Ecco che tutto questo circolo ermeneutico praticamente che nasce dalla liturgia della parola ci spingerà a vivere l'esperienza della settimana santa come l'adesione al grande sacramento che è il Cristo Signore che Cristo Signore da quel costato squarciato ha dato alla sua chiesa e che si esprime nei sacramenti cioè nelle azioni che Cristo ha compiuto e che quindi sono divenute sacramenti di salvezza. Ma perché noi dobbiamo diventare sacramento a nostra volta per gli altri e dare così gloria a Dio. Sacramenti che si esplicano attraverso alcuni riti particolari Don Pino che la settimana santa pone alla nostra attenzione che tutti noi vivremo insieme sono riti che si ripetono ogni anno sempre allo stesso modo però ogni anno acquistano un modo diverso una visione diversa delle cose ci aiutano a vedere anche in maniera diversa le cose. Allora quali sono appunto qual è la significatività direi a questo punto di questi riti così importanti che ogni anno si ripetono ma che ogni anno acquistano un significato nuovo? La liturgia e quindi la sacramentaria non agisce mai per azioni soltanto di tipo ideologico non è una razionalità ideologica la liturgia esprime nella prassi per ritus et preces per i riti e per le preghiere esprime fondamentalmente il vero linguaggio che Dio ha con l'uomo e che l'uomo ha con Dio la liturgia è teandrica è fatta di Dio ed è fatta dell'uomo non è solo dell'uomo o non è solo di Dio e questo è molto importante come principio perché soltanto così capiamo nel tempo quelli che possono essere gli elementi fondamentali di ciò che celebriamo perché lo crediamo e quindi lo dobbiamo vivere. La famosa espressione di Prospero di Aquitania l'ex credendi, l'ex orandi, l'ex vivendi e tutto questo si ha in tutti i riti della settimana santa in modo particolare nel triduo nel triduo santo che è preceduto però da una celebrazione fondamentale che dice l'esperienza sacramentale di questi riti e cioè il giovedì santo la messa crismale che in alcune diocesi è anche anticipata al mercoledì sera per favorire la partecipazione dei fedeli laici l'attenzione è molto importante in questo perché lì perché è chiamata messa crismale perché in quella messa vengono benedetti vengono consacrati quegli oli che serviranno per l'amministrazione sacramentale l'olio del crisma l'olio dei catecumeni l'olio degli infermi e quegli oli ci rappresentano proprio come tutto il nostro itinerario è un essere ricoperti da questo olio che lenisce da questo olio che fortifica da questo olio che ci fa diventare degli atleti di dio atleti che sfuggono a tutte le incursioni del male ma che sono pronti a testimoniare Cristo Signore allora ecco perché c'è un filo rosso che conduce tutti questi riti vedete questi oli sono consacrati normalmente al mattino del giovedì santo la sera vengono portati processionalmente nella messa in cena domini proprio perché quegli oli rappresentano la continuità di quel corpo che è stato ricoperto di oli e quegli oli hanno aumentato sempre di più la nostra fede la fede del Cristo risorto in noi quella fede di colui che per noi ha patito è morto ed è risorto e quindi tutto questo ci spinge attraverso quegli oli attraverso tutta la nostra comunione nella configurazione a Cristo Signore di cui ci nutriamo nell'Eucarestia ultima cena lavanda dei piedi che mette in comunione che cosa? ciò che è è il rito con ciò che deve essere la vita attenzione c'è un'esperienza che noi per motivi anche ecumenici per motivi di ampliamento di quel concetto di universalità ora esprimiamo con il gesto della lavanda dei piedi anche a gente a fratelli e sorelle di non fede cristiana però attenzione è un gesto che il Signore fa soprattutto ai Suoi discepoli a coloro che devono continuare l'Eucarestia nella vita ministeriale nella vita di servizio ecco perché è importante saper cogliere che i battezzati gli iniziati in Cristo quello che avverrà poi nella veglia pasquale saranno esperienza di testimonianza del risorto e porteranno quella veste bianca che è la veste proprio della resurrezione e la veste cioè dell'essere rinati in Cristo il diacono diceva nella notte della veglia pasquale diceva indue te cristum rivestiti di Cristo e quella veste ci ricopriva umidi perché si attaccava la nostra pelle ed era diventata così una nuova pelle la pelle di Cristo il corpo di Cristo il corpo del sacramento beh insomma abbiamo tanto da imparare da questa tre giorni che un po' è anche la sintesi e il riassunto di tutto il cammino dell'anno liturgico non a caso appunto viene definito centro e cuore il triduo della settimana santa il triduo pasquale centro e cuore di tutto l'anno liturgico e l'ultima considerazione che vogliamo fare insieme Don Pino prima di lasciarci è legata al valore del silenzio perché se c'è una forte componente di segni come tu ci hai spiegato c'è anche una forte componente del silenzio potremmo dire che il silenzio la fa da padrone nel triduo pasquale come la dovrebbe fare la padrone un po' in tutta la liturgia perché se noi andiamo a vedere sul messale romano ci sono molti momenti in cui viene invocato il silenzio ma perché? perché nella teologia biblico e liturgica il silenzio indica un'altra presenza sempre una presenza di Dio ma indica lo Spirito Santo indica l'azione dello Spirito Santo perché nella liturgia Cristo agisce è la gente l'azione è lo Spirito Santo e la gloria va a Dio Padre allora ecco il silenzio non è soltanto uno strumento per meditare o contemplare no è uno strumento di azione in quel momento lo Spirito Santo sta sta compiendo l'azione l'azione misterica è molto bello quando nella celebrazione eucaristica il sacerdote impone le mani sopra il pane e il vino e per questa imposizione delle mani che detto tecnicamente è un gesto epicletico cioè che chiama sopra il pane e il vino lo Spirito Santo perché faccia come il forno no trasformi trasformi quel pane in pane caldo in pane nutriente in pane saporoso buono che è da gustare e questo pane buono da gustare è proprio il Signore Gesù quel pane di vita eterna io direi di chiudere allora Don Pino dicendo gustiamo il silenzio in questo riscopriamo il valore del silenzio in questo triduo pasquale che ci apprestiamo a vivere la prossima settimana in questo mondo così frenetico che di silenzio davvero ne ha tanto bisogno un po' a tutti i livelli è la liturgia da questo punto di vita perché abbiamo bisogno proprio di presenza dello Spirito dentro di noi meno protagonismo personale anche forse tante volte noi ministri stessi essere meno protagonisti meno showman della liturgia ma piuttosto impastati dallo Spirito per poter far sì che l'azione si compia bene Don Pino grazie noi ci rivedremo ti rivedremo questa sera e anche domani per la celebrazione eucaristica appunto per noi è stato davvero un grande piacere e per me di tornare qui è sempre un piacere grazie grazie di cuore Don Pino adesso andiamo in pubblicità e poi avremo ancora un altro ospite grazie a tutti